Ciao a tutti da Mirko, oggi parliamo di Failsafe. Vedremo cosa significa, come settarlo e gli errori più comuni che si fanno quando si parla di questo argomento. Inoltre vedremo anche i test da fare per verificare che il Failsafe stia effettivamente funzionando bene. Partiamo con una piccola introduzione sul Failsafe. Il Failsafe è una procedura di sicurezza che interviene quando si interrompe la comunicazione tra radio e ricevente. Una volta che il sistema individua l'assenza di segnale, deciderà come comportarsi. La prima domanda da porsi quindi è, quale componente decide cosa fare quando manca il segnale radio? Per quanto riguarda i Drone FPV questa decisione viene presa dal Flight Controller, che in base alle istruzioni che gli diamo deciderà quale azione compiere. Per i modelli che non hanno un controllore di volo invece, la procedura del Failsafe viene gestita direttamente dalla ricevente. Quindi spostiamoci su Betaflight per vedere la pagina Failsafe nel dettaglio. La prima cosa da tenere bene a mente è che il Failsafe non ha bisogno di essere attivato. Questo perchè è già attivato via software e si aziona automaticamente quando perdiamo il segnale radio. Inoltre per motivi di sicurezza non esiste la possibilità di disattivare il Failsafe. Per la maggior parte degli utenti quindi questa pagina può essere anche ignorata in quanto il Failsafe è già attivo e le impostazioni predefinite vanno bene. Comunque diamogli lo stesso un'occhiata. Il Failsafe è composto da due fasi, lo Stage 1 e lo Stage 2. Quando si interrompe il segnale radio si attiva subito lo Stage 1, che consiste in un piccolo lasso di tempo nel quale il Flight Controller non compie nessuna azione, e aspetta per vedere se il segnale radio si riprende o meno. Lo Stage 1 si rende necessario perchè il segnale potrebbe mancare per qualche istante per poi tornare subito dopo. Possiamo valutare di incrementare il tempo dello Stage 1, ma a mio parere andare oltre un secondo non serve a molto e potrebbe diventare pericoloso. Già i 0.4 secondi predefiniti possono coprire i Micro Failsafe che potrebbero capitare. La seconda opzione possiamo lasciarla anche a 100 perchè non è poi così determinante. Anche le opzioni in questo lato intervengono durante lo Stage 1, ma a mio parere la breve durata di questa fase rende superfluo a qualsiasi configurazione, quindi anche qui possiamo lasciare tutte le impostazioni predefinite. Qualora il segnale non dovesse ritornare in questo lasso di tempo scatta immediatamente lo Stage 2. Con lo Stage 2 abbiamo a disposizione tre opzioni, Drop, Land e GPS Rescue. Drop disarma completamente i motori facendo cadere per inerzia il drone verso il basso. Questa è l'opzione più sicura in assoluto, in quanto un drone fuori controllo con eliche che girano a tutta velocità può essere estremamente pericoloso, quindi è meglio che cada a terra piuttosto che rischiare di far male a qualcuno. La seconda opzione è Atterra, questa scelta è sempre da scartare perchè Betaflight non è in grado di gestire un atterraggio assistito, e inoltre intervengono talmente tanti parametri in gioco che l'opzione Atterra non è proprio fattibile. L'ultima opzione è il GPS Rescue che può essere attivata qualora abbiamo montato un GPS. In caso di Failsafe il GPS Rescue riporta il drone verso di noi, in modo che col drone vicino siamo in grado di riprenderne il controllo. Quindi ricapitolando, la pagina Failsafe va bene con le impostazioni predefinite e non c'è bisogno di intervenire, ma se avete montato un GPS potete selezionare GPS Rescue al posto del Drop. A questo punto comunque, anche se dovrebbe essere tutto ok, è sempre meglio avere la certezza che il Failsafe stia effettivamente funzionando. Non si sa mai che ci possa essere qualche bug su Betaflight, nel firmware della ricevente, in quello del radiocomando, o del modulo esterno se ne state usando uno. Inoltre questi passaggi vanno sempre fatti la prima volta che assembliamo un drone, o anche per sicurezza se abbiamo aggiornato qualche firmware di recente. Il metodo più pratico per testare il Failsafe è impostarlo via Switch, questo comando infatti simula l'interruzione di segnale proprio come se stessimo spegnendo la radio. A differenza di spegnere fisicamente la radio però, in questo modo abbiamo i tempi di reazione più veloci, cosa da non sottovalutare in caso di problemi. Nel tab Modo per questo test imposterò solo l'interruttore dell'Arm sull'AUX1 e quello del Failsafe sull'AUX2. Prima di procedere al test vorrei fare una precisazione sulla voce Failsafe che troviamo qui nel tab Modo. Questo comando è stato implementato solo per motivi di test e non perchè ci sia un reale bisogno di usarlo quando andiamo a volare. Questo perchè come abbiamo già visto il Failsafe è sempre attivo e non c'è bisogno di compiere nessuna azione per attivarlo. Come abbiamo visto questo comando va a simulare il Failsafe ma non aggiunge niente che già non sia presente su Betaflight, una volta finito il test possiamo rimuoverlo perchè non serve. Ok è tutto pronto, non ci rimane che provare se il Failsafe funziona o no. Mi raccomando questa prova deve essere fatta assolutamente senza eliche. Esiste sempre un eventualità che qualcosa possa andare storto, e che i motori iniziano a girare alla massima velocità. Se stiamo facendo delle prove è perchè comunque non siamo sicuri che tutto sia a posto, quindi è meglio non rischiare. Armo il drone. Ora lo mando in Failsafe. Perfetto i motori si sono bloccati, questo significa che il Failsafe sta funzionando correttamente. Nell'eventualità che i motori non si dovessero fermare allora c'è un serio problema, fate una ricerca delle componenti che state usando per capire come risolvere. Se il Failsafe del vostro drone non sta funzionando vi sconsiglio vivamente di andare a volare, perchè in caso di assenza di segnale il drone potrebbe volare per i fatti suoi diventando molto pericoloso. Come abbiamo visto all'inizio se stiamo usando un Flight Controller è quest'ultimo che si occupa della gestione del Failsafe. Tuttavia rimangono sempre a disposizione delle impostazioni Failsafe sulla radio, le più comuni sono Hold, Custom e No Pulse. Bisogna precisare quindi che qualsiasi impostazione sceglieremo sulla radio non viene presa in considerazione dal Flight Controller. Sebbene sia di fatto un pro forma a impostare il Failsafe sulla ricevente, diamo sempre lo stesso l'opzione No Pulse. Questo sia per rimuovere l'avviso di errore quando accendiamo la radio, sia per avere comunque una sicurezza in più nel raro caso che qualcosa andasse storto nel Flight Controller. Se usate il sistema Crossfire potete settare il Failsafe nella pagina ricevente, sotto la voce Failsafe Mode. In questo caso scegliete Cut che è l'equivalente di No Pulse. Se invece avete un FS i6 o FS i6X ho fatto una guida specifica su come settare il Failsafe in queste due radio, vi lascio il link del video in descrizione. Perfetto per oggi è tutto, abbiamo visto che cos'è il Failsafe e i passaggi da fare per verificare che stia funzionando correttamente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!